FIVE pulisce i contatti per la manutenzione degli impianti elettrici, in questo caso dei connettori, dei cablaggi che possono presentare delle ossidazioni ma propone FIVE che è questo prodotto spray a base sintetica che svolge 5 funzioni quindi le attive i contatti elettrici in presenza di ossidazioni protegge quindi i blocchetti, i contatti fa da sbloccante, detergente quindi pulisce e lubrifica il nostro connettore riattive i contatti anche bagnati quindi possiamo spruzzarlo tranquillamente sul nostro contatto essendo a base di solvente evapora lasciando il contatto pulito assolutamente con le giuste proprietà di conduzione elettrica in questa maniera possiamo andare a riattivare tutti i contatti semplicemente spruzzando all'interno un po' di prodotto